Taglio del nastro questa mattina alla Marina di Pescara della Mostra del Fiore, un appuntamento che ormai è diventato canonico per l'estate, l'inizio della stagione estiva qui a Pescara per quanto riguarda ovviamente tutta la parte vivaistica. Sì, 41 anni di storia sono abbastanza, qui al Marina di Pescara la Mostra del Fiore che oramai è un contenitore che raggruppa aziende di tutta l'Abruzzo e anche di varie regioni italiane, quindi di conseguenza oggi il Marina di Pescara ci ospita, però chiamiamolo Mostra del Fiore dell'Abruzzo. Quanti sono gli espositori e quanto durerà la manifestazione? Gli espositori sono 201 espositore, avevamo l'obiettivo di superare i 200 e ce l'abbiamo fatta. La manifestazione apre questa mattina e saremo aperti sabato, domenica e lunedì 1 maggio. Cosa possono trovare gli appassionati di fiori, di piante in questa mostra? Per gli appassionati di fiori troveranno qualcosa di meraviglioso dove la scuola di arte floreale ha organizzato con noi un concorso internazionale dove otto squadre si sono confrontate in tre prove e hanno preso fiori, hanno smontato fiori, hanno rimontato, hanno fatto delle opere meravigliose e quindi il fiorista potrà deliziarsi nell'ammirare questi lavori. Per quanto riguarda invece chi vuole venire a visitare la manifestazione, ci sono quasi 40 aziende che vendono proprio piante, quindi abbiamo qualcosa come 100.000 piante qui a disposizione per chi vuole comprare di tutti i tipi, dal piccolo vasetto alla grande pianta. E poi tutto il resto sono tante aziende collaterali del tempo libero del fai-da-te che farà piacere visitare e eventualmente anche acquistare se c'è bisogno.